scusate ragazzi ho avuto dei piccoli problemi ho dovuto rifare il video da cavo perché ho avuto dei piccoli problemi adesso siamo qui e sto cercando di prendere Musabrow allora come potete vedere perché sono troppo furbo ragazzi ho censurato ho censurato il mio nome infatti in alto a sinistra ci dovrebbe essere il mio nome ma io l'ho censurato mettendo quel coso quello che è allora carichi o non carichi non me ne frega sono pronto per la partita come va va spero bene se va male non mi interessa andiamo andiamo allora perché quando devi prendere sopra non lo prendi ecco quando devi prendere sotto invece non lo prendi non lo prendi sopra ok ecco 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 via tuoi eh bravo home bello carico per la partita di oggi guarda come sono forti guarda come sono forti questa partita quella che ho fatto video ha fatto leggermente schifo ho perso 1 a 0 per poco pareggiavo veramente poco però mi hanno dato il fuorigioco anche se non c'era veramente raga si era un attimo non neanche voglio usare il termine buggato cioè si era buggato però non voglio usare il termine buggato di solito lo uso sempre però nei video non mi piace si era bloccato si era un poco pezzorutto su poche parole e mi hanno dato il fuorigioco anche se non c'era il fuorigioco sarebbe quando un attaccante è avanti al difensore più avanti più avanti a tutti i difensori rimane da solo prima che gli passano la palla e in quel punto ecco come questo guardate questo era già avanti la palla gliel'hanno dato io questo lo sto dicendo per chi non lo sa per chi lo sa ancora meglio allora drogido watch waiting niente perch how it works ahia sono fatto male allora fanno schifo i miei giocatori eh per chiarirci col termine il termine preciso è schifo fuorigioco fuorigioco oh finalmente si recuperata dai fa la mia si fa la mia si fa la mia boxe rog mettila dentro no dai murato che vergogna che vergogna sto tiro veramente ti dovresti vergognare ti dovrebbero odiare ti dovrebbero odiare tutti per la vergogna che hai fatto per il tiro di vergogna che hai fatto eh vabbè allora uno fa più schifo dell'altro questo non si può negare però potrebbero far di meglio tipo ora facendo gol no perché non hanno neanche recuperato palla ecco infatti recuperano per buttarla fuori cioè faccio le schifolate bene giuste ed esce quando è scarica la nintendo 5% da soli 5 minuti di video io volevo fare un intero live in fifa forse dopo in fortnite dai dai si no è schifo ho 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 i d ho ho la ho ho All right, 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 io gli vado addosso di prepotenza guardate con quale prepotenza portiere grande grande portiere grande matthews quanto mi fa male la gamba a furia di sbatterci controller sopra non ce la posso fare qui no non ci penetra la palla non penetra infatti ma come fallo questo se fallo questo dovrebbe essere fallo guardare un mobile non lo so ho cercato di inventarmi qualsiasi cosa non mi veniva niente in mente a fianco a me c'ho un mobile allora ho detto un mobile e guardare perché è quello che stavo facendo guardare un mobile allora si va beh dai che schifo è che schifo a giù a giù ancora a giù 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 ma chi chissà che avevo combinato eh annullato il gol per il calcio di rigore forse lo farò anche se lo paro è una fortuna che fortuna lui è quello che ha segnato però in tempo ho sbagliato perché era calcio di rigore che fortuna non ci posso credere credere sono riuscito a prendere la palla in tempo la pazzesca questa roba eccola la palla per Waiti Waiti no Waiti no Waiti no e avanzano pure gli avversari con la palla alta si ma niente ma niente ma parola mia arbitra 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 vedete che vi dico faccio un cambio anch'io io non ho nessuno da cambiare sono quasi tutti a posto ancora non si vede tutta la schermata non so con quale fisica e politica si regge tutta la fisica non serve che lo dico fa già schifo per come l'ho detto fatela pure voi sta battuta dovete dire con quale fisica si regge sto coso con quale fisica e politica si regge sto coso e lui come è morto perché mi sei tuffato a terra comunque la Kimojo bu niente centrale che schifo di palla dentro non so se la voce mi si sente meglio così perché sto praticamente urlando nel microfono del mio telefono dai non so se la voce non so se la voce non so se la voce che male tutta una testata alla sedia si si ragiona adesso non so se la voce Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sperando il video vi sia piaciuto e posso fare l'outro in tranquillità senza intesi. Bene, noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Allora nel frattempo inizio già ad uscire. E ciao ragazzi!